Buonasera da Marco Capulli e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca perché è stato arrestato ad Arezzo per tentato omicidio un 47enne che ha tentato appunto di uccidere il fratello per poi lasciarlo agonizzante del bel bezzo della strada in una pozza di sangue. Chiara Sadotti. Tentato omicidio è con questa gravissima accusa che è finito in manette un 47enne a retino che avrebbe cercato di uccidere il fratello di 43 anni per poi abbandonarlo agonizzante sul ciglio della strada. I fatti risalgono allo scorso 23 novembre. Secondo le ricostruzioni degli investigatori tutto sarebbe accaduto per futili motivi mentre i due fratelli erano assieme in auto nei pressi dell'uscita della 4 Corsie E78 a San Zeno. Al volante il più grande che ad un certo punto avrebbe stoppato la marcia, costretto il passeggero a scendere e una volta estratto il coltello avrebbe iniziato a colpirlo. La vittima poi in una pozza di sangue era stata abbandonata qui in mezzo alla strada. Aveva lesioni gravissime causate dalle coltellate ma comunque era riuscita a farsi notare dalle poche auto di passaggio che avevano subito lanciato l'allarme. Sul posto i soccorretori dell'emergenza urgenza e la polizia di Stato. Il ferito era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per poi essere trasferito al policlinico Le Scotte di Siena dove ha lottato tra la vita e la morte. È stato infatti operato alla mano una delle zone più colpite nel tentativo di difendersi anche se le ferite più preoccupanti erano al fianco vicino ad Urrene. Solo dopo settimane il 43enne è tornato in forze per raccontare quanto accaduto agli investigatori che dopo una rapida indagine hanno arrestato il 47enne con alcuni precedenti che dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dal rapporto di Palentela tra aggressore e vittima. Atteso per le prossime ore l'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP durante il quale l'uomo potrebbe raccontare la sua verità. Ancora episodi di violenza e degrado nel quartiere di Saione ad Arezzo, un'altra rissa si è consumata nel quartiere questa volta in via Curtatone. Chiara Sadotti Torna ad accendersi la tensione nel quartiere di Saione ancora una volta al centro delle cronache locali. L'ultimo episodio in via Curtatone. Qui martedì sera attorno alle 21.30 si è acceso una lite e gli animi hanno subito iniziato a scaldarsi. Talle parole poi ben presto si è passati ai fatti. Ho sentito le grida e mi sono affacciato. Fuggi fuggi e poi è arrivata la polizia. Una rissa, facciamo una cazzotta e facciamo di tutto. Il quartiere di Saione dunque ancora una volta alla ribalta delle cronache locali. Queste cose specialmente a noi che non siamo più giovanissimi danno fastidio, danno noia. Solamente una settimana fa a Campo di Marte era stata aggredita un agente della polizia municipale colpita mentre era in servizio da un giovane che aveva dato in escandescenza. Era finita in ospedale al San Donato con una vertebra incrinata. Sempre tra Campo di Marte e via Veneto ad inizio dicembre un'altra violenta rissa finita con un accoltellamento. Se si accende la televisione è un casino. Insomma l'ennesimo episodio di degrado e microcriminalità che riporta così sotto i riflettori la questione sicurezza in quest'angolo della città. Di cosa ci sarebbe bisogno in questo quartiere? Di una vigilanza secondo me un pochino più attenta e di un presidio reale. E proprio ieri abbiamo raccontato dell'assalto a un autogrill a Pieve Santo Stefano lungo la E45. Questo tentato furto che è stato sventato dall'arrivo di un'auto nel parcheggio antistante questo locale. Questa banda si presentava armata di ascia o coltelli. Insomma altri episodi simili con la stessa dinamica si sono verificati anche nei giorni precedenti. Potremmo quindi trovarci di fronte alla stessa banda. Su questo si stanno concentrando le indagini della sezione di San Sepolcro dei Carabinieri. L'episodio di Pieve Santo Stefano si è verificato nella sera tra lunedì e martedì dopo la mezzanotte. Ma nel lungo weekend natalizio ci sono stati altri due colpi in Umbria. Uno nella frazione Tifernate di San Secondo e l'altro proprio nel centro di città di Castello. I punti in comune fra i tre casi sono diversi. I malviventi si sono presentati con il volto coperto, comunque non riconoscibili. Nelle rapine hanno brandito un lungo coltello che qualcuno ha scambiato per una roncola o comunque un macete, gridando poi di volere l'intero incasso. In tutti i casi erano in due a presentarsi e a prendere i soldi, mentre una terza persona era in auto con la quale i malviventi erano pronti a fuggire. Qualcuno dei testimoni sostiene che siano scappati sempre con una vettura nera e di grosse dimensioni. Torniamo a parlare anche di un altro episodio di cui abbiamo parlato ieri sera. Parliamo di Tiziano Birra, il crociare che si è visto sfondare a Sassate nella notte di Natale la roulotte dove vive. Ad intervistarlo per la nostra rubrica Bobo 7, Massimo Gianni in questa nostra anticipazione. Oggi raccontiamo una vicenda allucinante, sconcertante. La roulotte che vedete parcheggiata qui in fondo a questo parco di fianco ad una scuola in via 25 Aprile ad Arezzo è stata presa la notte di Natale a Sassate da alcuni sconosciuti. Non contenti la sera di Santo Stefano sono tornati e hanno replicato questo folle gesto. Nessuna conseguenza fisica per fortuna per questo signore, questo crociare che si chiama Tiziano Birra e che adesso ci racconta che cosa è successo. Ero qua e a un certo punto è arrivata una volta una macchina ha tirato una sassata e ha rotto il primo vetro. Poi sono scappati, hanno fatto un giro, hanno tirato una sassata e hanno spaccato un altro vetro. Ma io ero dentro la roulotte, mica ero di fuori, con il mio cane. E ho avuto veramente paura per il mio cane, non per me. E vi ricordo che l'intervista completa andrà in onda questa sera dopo il telegiornale nella puntata della nostra rubrica Bobo 7. È stato tratto in salvo un cane nel bel mezzo della careggiata dell'autostrada del Sole nel tratto a retino mentre correva lungo le corsie di marcia a seguito di numerose segnalazioni da parte degli automobilisti che descrivevano l'animale. Corre appunto lungo l'autostrada. I COPS di Firenze ha prontamente allertato una pattuglia della sottosezione di polizia stradale di Arezzo Battifolle che ha intercettato il cane al chilometro 359 della careggiata nord nei pressi del casello di Arezzo. Gli agenti hanno dapprima rallentato il frusso veicolare e successivamente bloccato il cane scongiurando ogni possibile pericolo per la circolazione. I poliziotti hanno quindi avvicinato l'animale che si è dimostrato molto docile riuscendo ad avvolgerlo con una coperta e a portarlo in salvo. Il cane è stato quindi riconsegnato a legittimo proprietario anche grazie alla collaborazione dell'EMPA di Arezzo. Zara, questo è il nome del cane, anzi della cagnolina, che aveva perso la strada di casa e ha potuto quindi ritrovare il suo padrone che poco dopo si è presentato presso la sottosezione per riabbracciare e riportare a casa l'amico a quattro zampe. Tempo di bilanci di fine anno e prospettive di lavoro anche per CIA Arezzo. Ecco ciò che è emerso dall'ultima riunione del Consiglio Direttivo alla presenza del direttore regionale Giordano Pascucci. Il servizio. Come affrontare le sfide del 2023? Dal primo di gennaio ci sarà la nuova PAC, quindi occorreranno una serie di incontri in tutte le zone per promuovere, far conoscere quelle che sono le misure della nuova PAC, ma è anche un modo per fare gruppo, per stare assieme, per confrontarci sui problemi, su un'agricoltura che cambia, una siccità che oramai è una costante, così come il tempo che non ha più, quelle caratteristiche che ci aveva abituato fino adesso, ma adesso è un tempo molto più impetuoso, le piogge sono torrenziali quando piove, l'estate è una estate torrida, siccitosa e quindi l'agricoltura deve strutturarsi e prepararsi ad affrontare questi problemi per poter resistere dal punto di vista della produzione, affinché le aziende possano continuare a sopravvivere e a produrre alimenti di eccellenza. Questi temi sono all'ordine del giorno anche della CIA di Arezzo, l'affrontiamo confrontandoci sulle differenze tra i singoli produttori, su chi ha avuto più fortuna o più lungimiranza nell'affrontare le criticità che ci sono state, cercando di fare tutti assieme tesoro delle migliori pratiche e facendo fattore comune e provare insieme a vincere le sfide che nel futuro attendono il mondo dell'agricoltura. Si chiama Poligono del Giappone, è una pianta infestante presente lungo alcuni corsi d'acqua valdernesi, dal consorzio di Bonifica arriva un appello. Sentiamo. Insieme all'amministrazione comunale e all'Unione dei Comuni del Prato Magno abbiamo pensato di focalizzare l'attenzione su una pianta infestante, il Poligono del Giappone. Come ho detto è una pianta infestante, è una pianta all'octona, quindi non tipica del nostro territorio ma che è stata portata qui ormai da diverso tempo, a scopi ornamentali, poi utilizzata anche per foraggiare ovini e caprini, ma è una pianta che mette a rischio la biodiversità dei nostri corsi d'acqua e anche la stabilità delle opere e degli argini, quindi crea anche dei problemi dal punto di vista idrogeologico. Proponiamo un volantino che è stato redatto dai nostri tecnici per dare delle indicazioni su come comportarsi ai cittadini ma anche alle altre amministrazioni. Innanzitutto quello che è importante fare è riconoscerla, iniziare a riconoscerla perché ormai abbiamo visto che è molto diffusa purtroppo in Val D'Arno, si parla di circa 70 chilometri di corsi d'acqua ormai colonizzati, quindi capite che la situazione inizia ad essere preoccupante, ma non colonizza solo i corsi d'acqua, la ritroviamo anche lungo le fossette delle strade e anche i norti e i giardini privati, quindi è importante che anche i cittadini ne prendano coscienza. Per poterla gestire noi abbiamo adottato la tecnica di tagliarla, trinciarla nel periodo di riposo vegetativo, quindi quando ha perso le foglie, lo stelo è secco, proprio perché ha minore capacità di riprodursi in quel periodo lì e poi usiamo la tecnica dell'abbruciamento. Continua il tour del nuovo vescovo di Arezzo Cortona, San Sepolcro, per conoscere la gente dei maggiori centri della sua nuova diocesi. Martedì è stata la volta della comunità di San Sepolcro dell'intera Valtiberina che ha accolto Sua Eccellenza Andrea Migliavacca nella giornata dedicata al patrono del borgo San Giovanni Evangelista. Dapprima il vescovo si è recato al Sacro Cuore dove è stato accolto da tanti bambini e dagli scout dell'oratorio Monsignor Pompeo Ghezzi. Poi il corteo, scortato dai suoni della banda musicale della filarmonica dei perseveranti, Monsignor Andrea Migliavacca ha raggiunto Piazza Garibaldi. Qui il cordiale è partecipatissimo incontro con le istituzioni del territorio ed i rappresentanti delle forze dell'ordine. Nella scalinata del Museo Civico il sindaco Innocenti ha ricordato l'importante storia della diocesi in queste latitudini augurando al nuovo vescovo un proficuo lavoro a beneficio anche del territorio bagnato dal Tevere. Nella vicina cattedrale gremita al massimo della capienza, il vescovo ha celebrato la Santa Messa, la serata si è conclusa sempre in Duomo con il concerto di Natale, ovviamente eseguito dal coro Città di Piero. E rimanendo in tema natalizio, Arezzo Città del Natale, un successo al di sopra di ogni aspettativa, sfondato il milione di presenze, chiuso il mercatino tiralese ma ancora non è finita. Chiara Sadotti. Le aspettative sono state superate, ci attendevamo tanta gente, ce ne attendiamo ancora altra fino all'8 di gennaio, dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere che nella settimana precedente il Natale in cui i flussi solitamente sono stati sempre più contenuti, quest'anno è andata particolarmente bene. Bilancio più che positivo per la prima parte di Arezzo Città del Natale che ha superato il tetto di un milione di presenze. Dal 26 dicembre ha infatti chialato il sipario su questa edizione del villaggio tirolese in Piazza Grande, mentre restano attive le altre attrazioni, dal prato al mercatino delle piazze Saiaco per risorgimento e la mostra Lego nella Galleria d'Arte Contemporanea di San Francesco che allunga di altre tre date, 6, 7 e 8 gennaio. Si chiude ora Piazza Grande per far posto alla fiera, rimane aperto tutto quello che è la città del Natale nella sua quasi interezza perché dalla fortezza a Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo rimane tutto in piedi fino all'otto, proseguiamo fino all'otto per poi chiudere, fare un bilancio di questa edizione che già ad oggi parrebbe positivo. La prima parte della città del Natale si è dunque chiusa con numeri importanti come dimostrano le prenotazioni degli alberghi e ristoranti. Monitoriamo costantemente gli arrivi e le presenze, credo che i conti si fanno alla fine come al solito ma credo che quest'anno avremo delle belle sorprese. Grazie all'iniziativa dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra verrà intitolato a febbraio un largo proprio alle vittime civili della guerra. Il tratto interessato sarà ad Arezzo nella rotonda tra via Arno e via Duccio da Buoninsegna dove si trova il monumento in memoria delle vittime appunto della provincia di Arezzo. L'intitolazione intende ricordare gli cidi della seconda guerra mondiale ma anche di tutte le altre guerre. In particolar modo San Severo, San Pancrazio, San Polo, Mollinaccio, Rassinata, Palazzo del Pero, Civitella e tutte le altre località dove hanno perso la vita i civili a causa delle guerre. Il nostro 2022, commenta Ulisse Domini, presidente provinciale dell'Associazione, è stato orientato a rappresentare e tutelare le vittime civili di guerra, le loro famiglie e i loro congiunti. Un impegno attivo e partecipato nel tenere viva la memoria e promuovere la pace. Andiamo alla pagina sportiva perché si parla dell'Arezzo, si parla di mercato. Il dottore Arduini era atteso ieri per unirsi al gruppo Amaranto ma il centrocampista classe 2003 in procinto di trasferirsi dal Fiorenzuora all'Arezzo non ha ancora ottenuto nulla ossa da parte del club emiliano per cominciare ad allenarsi con i compagni in Amaranto perché manca ancora la firma del contratto. Arduini andrà ad aggiungersi ai pari quota Damiani e Bianchi. I trasferimenti dalla Lega Pro intanto potranno attuarsi soltanto a partire dal 2 gennaio prossimo per ottenere una punta. Il direttore generale Giovannini sta setacciando senza fretta la Serie C. Intanto va avanti la squadra affidandosi a Gucci, tra i nomi che potrebbero interessare la squadra dell'Arezzo. Ci potrebbero essere anche alcune vecchie conoscenze di mister indiani come Arrighini del Provercelli, Magnaghi del Pordenone e Scappini della Torris. Questa era l'ultima notizia per questa sera. Augurandovi ancora buone feste da parte della nostra redazione. Vi rimando ai nostri appuntamenti di Arezzo TV.